Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di parlare del cristianesimo e del Cristo. Premetto che io non sono né cattolica né cristiana, però nonostante tutto io non sono una grande stima della figura del Cristo, ma nonostante non ce ne siano prove tanto evidenti, che ne dicano i cristiani, della sua esistenza, è inutile dire, anche perché Gesù Cristo non era una figura storica da riportare nei libri storici, ne parla praticamente solo Flavio Giuseppe e quasi nient'altro, e poi ne parla in due righe. Ma anche perché era un personaggio non importante politicamente o militarmente, ed erano gli unici che venivano citati. Si è trovata la citazione di Ponzio Pilato e già sembrava una grande scoperta. Però nonostante questo io credo nell'esistenza del Cristo, semplicemente perché mi convince la sua figura. Cioè una figura così illuminata, difficilmente poteva essere stata inventata, perché poteva essere stata inventata da uno che era come il Cristo, insomma, e a questo punto non inventava storia. E' una figura molto ammirevole, molto piacevole, molto equilibrata, piuttosto avveniristica per l'età, perché la mentalità ebraica all'epoca era una mentalità ristrettissima, lo è stato pure dopo, ma all'epoca non ne parliamo, le donne se le mettevano sotto i piedi, loro erano il popolo eletto, tutti gli altri non contavano niente, eccetera. Il che non giustifica sia chiaro la persecuzione che ne è stata fatta o l'antisemitismo che è vigente tutt'oggi, che è di una crudeltà assoluta e che nasconde altri problemi della persona che crede a questa, che nutre questo odio. Dunque, la figura del Cristo, che è una figura riportata, no? È una figura riportata dagli apostoli, tra l'altro mi sembra che solo uno di loro sia coevo e gli altri hanno scritto dopo, gli altri tre hanno scritto dopo. Il Cristo era una figura che anzitutto amava le donne. Chi ama la donna ama l'anima, chi odia le donne odia la propria anima. La religione ebraica era tutta asservita, e uso il termine asservita, o schiavizzata anche, si potrebbe dire, al Dio Padre, che era un padre padrone, geloso, che richiedeva un'attenzione totale, un sacrificio totale per lui. Cosa che difficilmente farebbe un padre umano, figuriamoci un padre divino. Nonostante tutto questo, il Cristo amava le donne, tant'è vero che era circondato sempre dalle pie donne, dalle cinque donne che lo circondavano sempre, quello che parla con la samaritana, no? E viene poi quasi redarguito, no? Gli si diceva perché tu parli con una donna, no? Era una cosa svilente parlare con una donna. E anche con Maria e Marta, no? Nell'episodio in cui Marta dice, spero di non sbagliare le tue figure, Comunque, dice, io sto lì a lavare i piatti, fare le cose, e mia sorella invece sta ad ascoltare te e non fa niente, no? E lui dice, no? È importante ascoltare, no? Quindi toglie alla donna quell'obbligo assoluto, no? Di dover servire, e più importante era quello di capire, no? Ascoltare per capire, perché lui era conscio di portare una certa saggezza, che effettivamente lui ha portato, ma che la Chiesa ha completamente negato. Cioè il cristianesimo che era basata sulla fratellanza, no? Il perdonare, quante volte dobbiamo perdonare, perché sembrava una cosa quasi assurda, no? Il perdonare, addirittura i nemici, no? Dice, che merito avete voi a perdonare se non perdonate i vostri nemici? E dice, quante volte dobbiamo perdonare? No, allora dobbiamo perdonare, ma fino a che punto? Perché sennò è esagerato, no? E allora il Cristo dice 70 volte 7. Che cosa vuol dire? Le interpretazioni sono assurde. 70 volte 7 era un numero simbolico. Non è che uno deve fare i conti e deve fare 7 per 7 è 14, ci aggiungo 7 per 7 è 49, ci aggiungo 1 0, devo perdonare 490 volte. Il 7 era il numero dell'infinito, un po' presso tutti i popoli, perché era il numero della ciclicità che si ripete all'infinito. E non è un caso, perché noi abbiamo una settimana di 7 giorni. Anche i romani avevano una settimana di 7 giorni. Perché nella favola di Biancaneve si scrive al di là dei sette monti, al di là dei sette mari, esistono 7 cascati, 7 nani. Perché sempre il numero 7? Perché il 7 era il numero della ciclicità e quindi dell'infinito. Cosa vuol dire? Il numero della ciclicità è ciò che si ripete all'infinito. No, 7 poi ricomincia dall'1 al 7, finisce, ricomincia dall'1 al 7, eccetera, eccetera. Come la vita e la morte. Ok, torniamo al Cristo. C'è un libro di Bertrand Russell, un favoloso fisico, matematico e anche filosofo, il quale dice, scrive, il titolo del libro è Perché non sono cristiano. E lui enuncia tutte le cose che non gli sono piaciute del Cristo. A me il Cristo è piaciuto. Sì, fa seccare l'albero. Fa seccare l'albero quando dice il figo non c'è i frutti. Praticamente lo maledice e lo fa seccare. A parte il fatto che io non credo nel Cristo come figlio di Dio, ma lo credo come uomo, insomma. Quindi è quello riportato, figuriamoci. Però forse una specie di maledizione, qualcosa lo disse per far pensare a questo. E cioè che l'albero che non dà frutti non ha senso, non ha importanza, no? Quali sono i frutti che dobbiamo dare noi? Non i figli. La consapevolezza. Quindi io trovo molto bella la figura del Cristo, quella del non giudicare, no? Che naturalmente poi Cristo era anche figlio dei suoi tempi, anche se era molto, ma molto avanti. Però sempre una parte di lui era figlio dei suoi tempi, tanto è vero che credeva nel Dio Padre, no? E ci credeva, doveva far finta di crederci perché non voleva scandalizzare. Scusate, ma ci sono lavori degli operai in corso. È un casino per la polvere. Ok. Dicevo, il credere supinamente a un Dio Padre, perché una divinità totale in realtà non dovrebbe essere né padre né madre. Si può dire chi ci ha generato, un Dio genitore, insomma, no? Non è che ha un sesso la divinità cosmica, no? Oppure potrebbe essere maschio e femmina insieme, non lo so. Ma l'avvento del Dio Padre era una contrapposizione patriarcale alla religione primitiva che anche gli ebrei ebbero del matriarcato, cioè della dea madre, no? Tant'è vero che se guardate la Bibbia gli antichi giudici ebrei erano femmine o anche femmine riportate, no? Vengono riportate in forma mista. Sicuramente le prime erano quelle femmine. Ora, una figura femminile che fa da capo tribù perché il giudice era capo tribù e quindi stabiliva tutto e è chiaro che ci fosse un potere della dea madre e un potere delle donne. Un potere non come quello patriarcale, no? Che è un potere di dominio. Era un potere di guida, era un potere di consiglio, era un potere di, come posso dire, di salvezza e di protezione dei più deboli, no? E dei figli come figli di tutti, eccetera, eccetera. Il Cristo aveva molto di questa mentalità, no? Però è votato al padre mio, no? Io devo fare, devo pensare alle cose del padre mio, mamma, lasciami stare, eccetera, eccetera. E naturalmente alcuni l'hanno preso, come si dice, per orocolato. Ma i messia allora erano tanti, era l'epoca messianica, no? Anche perché era l'epoca della dominazione romana a Gerusalemme, no? Nel Medio Oriente. E c'erano i famosi zeloti. Ora, i zeloti sono quelli che poi si sono suicidati a Masada, esaltati contro la dominazione romana, no? La dominazione romana era in un certo senso abbastanza, tranne alcune eccezioni, era in un certo senso una dominazione non troppo pesante, anche perché sennò si rischiava la rivolta. E, per esempio, lasciava a chi era dominato i propri governanti, i propri dèi. Quindi i romani rispettavano il dio degli ebrei, erano gli ebrei che non rispettavano i dèi dei romani. Perché c'ha una sua logica anche questa, no? E cioè, il dio loro era unico e come unico non ammetteva altri dèi. Mentre, essendoci un politeismo nei romani, ammettevano anche altri dèi. Non dovevano esistere solo i loro. Avrebbero potuto esigere che esistessero solo i loro, ma non l'hanno mai fatto. C'è una grande tolleranza religiosa a Roma. Gli ebrei avevano un'assoluta intolleranza religiosa, che è una caratteristica delle religioni monoteiste. non solo perché non ci dovevano essere altri dèi, ma perché avevano bisogno di crederci. Cioè, io ho fatto quel video, no? Chi ha fede non crede, che spiega proprio questo. E cioè, che se uno crede veramente nel suo dio, non gli dà fastidio che altri credano in altro. Se io sono convinto che la mia donna o il mio uomo mi siano fedeli, perché so che mi ama assolutamente, se un altro dice non è vero, ti mette le corna, ti vuole tradire, io non mi preoccupo. Io so, credo, veramente. Invece lì c'è la morte, la distruzione, eccetera, eccetera. Per cui, quando a Masada, ritorno a Masada, era quella famosa collina, quella famosa fortezza, che era anche di Erode, eccetera, dei re israeliani o israeliti, e quando arrivarono i romani e si suicidarono, furono degli eroi, perché uccisero le mogli e i figli. Cioè, nessuno ha il diritto di stabilire se la moglie e il figlio devono morire, e glielo devono chiedere. E io non credo che tutte le moglie e tutti i figli erano contenti di morire, no? Magari volevano vivere, no? Insomma, non si può pensare che... No, sennò qualcuno l'avranno lasciato vivo, no? Invece, la donna che non posso avere io non la deve avere nessuno, no? Se mi viene tolta, io la devo uccidere, che è il femminicidio, no? Praticamente. E poi si sono ammazzati pure loro, ovviamente, perché non potevano esistere come schiavi, anche se la schiavitù dava delle possibilità, no? Voi sapete che a Roma Augusto fece anche degli editti, no? Per impedire che venissero liberati troppo... Mi sembra, se ricordo bene, che fece un editto per cui bisognava tenere uno schiavo per cinque anni prima di poterlo liberare, no? Perché diventavano liberti, praticamente. Perché lui stesso aveva gli schiavi di palazzo, diciamo, e ne liberò qualcosa come quattromila e sua moglie Livia ne liberò qualcosa come duemila, per cui i reali solo ne avevano liberati sei mila. Quindi, voglio dire, non era poi così difficile se ci si comportava bene, eccetera, diventare liberi, no? Anche se si restava un po' legati al... Però c'era anche una protezione di mezzo. E quindi, voglio dire, chi uccide la moglie e i figli non è una brava persona, non solo. Ma gli zeloti erano terribili, erano dei terroristi, ecco detto in una parola. Facevano il terrorismo, erano degli autentici terroristi e massacravano un sacco di gente, ma tanta. Per cui i romani erano un po' terrorizzati a loro volta da questi terroristi, perché non combattevano, facevano le scaramucce, uccidevano, sorprendevano, facevano le imboscate, eccetera, eccetera. Con un odio anche esagerato, insomma, nei confronti dei romani, che in fondo erano apportatori di civiltà e che avrebbero rispettato il Tempio di Gerusalemme come lo rispettarono. Loro volevano costruire anche altri tempi. Non si poteva fare, assolutamente. L'unico Dio. Perché il Padre non ammette che ci siano altre persone a condividere il potere, no? E' come Sauron nel Signore degli Anelli che dice, in cui il mago là dice Sauron è uno che il potere non lo condivide con nessuno, veramente. Lo dichiara il Dio nella Bibbia e dice io sono un Dio geloso, no? Ora un Dio che è geloso, anche un padre geloso fa pensare un pochino, siamo rovinati, insomma. Allora non esiste una giustizia, non esiste una benevolenza, non esiste nulla, no? E' un Dio che ordinava di uccidere quando occupavano una città dovevano uccidere anche le donne e i bambini, no? Non avete ucciso le donne, parole della Bibbia, e le vostre donne, che sarebbero sposate, sacrificano ad astarte, per cui l'avrebbero dovuto uccidere. Questo era il Dio buono, figuriamoci, questo era il Dio non buono, misericordioso. Figuriamoci se era cattivo, com'era, no? Viene da dire. Quindi la figura del Cristo era una totale innovazione, bellissima figura. Quando viene tentato dal diavolo, guardate che è un aspetto molto credibile, perché le tentazioni nell'opera al nero ci sono. Quando, non è uguale per tutti, quando io parlo dell'opera al nero, parlo della caduta degli schemi mentali, di riconoscere cosa è successo con i nostri genitori, cosa è accaduto da piccoli, nel rimangare, riscoprire tutto, perché il nero è l'inconscio, che è buio, non lo conosciamo, tutti rimuoviamo. Quando si va a rimuovere l'inconscio e vanno a cadere gli schemi mentali, c'è un momento in cui, e questo avviene alla fine dell'opera al nero, ne parlo perché l'ho fatto, l'ho sperimentato, l'astrale nero, l'astrale oscuro, che li chiama il diavolo, insomma, rimette in tentazione, è vero, non lo fanno con tutti, ma con alcuni lo fanno, con me l'hanno fatto. Gesù gli promettono il potere, gli portavano da mangiare, gli facevano, a me l'hanno fatto con altre cose, naturalmente non mi potevano promettere il potere di chissà cosa, però di sistemare alcune cose, di diventare famosa, eccetera, eccetera, me l'hanno offerto. Solo che io ero abbastanza smaliziata e ho capito immediatamente di che si trattava e ho tagliato immediatamente tutti i legami con le persone citate che potevano farmi illudere su questo. Non volevo illusioni, volevo la verità. Ero stanca di inganni e illusioni da parte della società, del mondo, volevo la verità, costi quel che costi. e quindi è una fase che si passa. Quando Gesù Cristo dice anche e verrà il momento in cui le stelle cadranno dal cielo sulla terra, in cui succederanno la fine del mondo, che molti santi non auspicano, non giusto, non è che la sidra, prevedono. Vi ricordate, nel Vangelo si domanda a Gesù Cristo quando succederà questo, non passerà una generazione che questo accadrà. E non è accaduto. Perché? Perché la fine del mondo è una caratteristica della fine dell'opera al nero. Sembra che finisca il mondo. Io li ricordo i miei sogni. Uno degli ultimi sogni che feci vedevo in cielo due comete, sa proprio come quelle del Natale, la stellina, la codina, eccetera, che occupavano tutto il cielo. una rossa e una blu sono due colori che compaiono spesso nei sogni della catastrofe. E questi due comete, queste due comete dovevano cadere sulla Terra, che poi cadere sulla Terra era il cielo che cadeva sulla Terra, non erano le stelle, come dice Gesù Cristo, erano le due stelle comete, siamo lì. Ed è, ciò che sta nella mente viene in Terra, quindi crollano gli schemi mentali, perché il cielo è la mente. Per questo noi mettiamo sempre gli idee in alto, perché stanno nella nostra mente. ricordo che avevo con me un bambino piccolo che era mio figlio ed era in realtà il mio maschile nuovo, il nuovo maschile che sorgeva. Ricordo anche che questo bambino disse che doveva entrare in chiesa, un po' come Gesù con i dottori, non andò a confutare i dottori, però voglio dire io per un attimo temetti che lui si facesse incastrare da questi, lui tornò e disse no, li ho solo salutati, cioè do l'addio alla religione, che d'altronde io avevo apparentemente salutato molti anni prima, perché io a 13 anni mi professavo a Atea, ma naturalmente profondamente ancora dentro un cattolicesimo ce l'avevo, perché l'avevo assorbito. mi ero liberata completamente dalla religione e allora io capì che io dovevo morire con questo bambino e me lo presi in braccio e disse andiamo in un posto dove siamo soli, lontani dalla folla, moriremo insieme abbracciati. Perché si sogna la fine del mondo e quindi la morte? Perché muore il nostro mondo. Non è che muore il mondo, muore il nostro mondo ed è vissuta come una morte. La famosa piccola morte o la morte iniziatica di cui si parla tanto nell'esoterismo se non c'è quella e fermo restando che ci sono persone che hanno delle qualità magiche indipendentemente da questo che non deve essere la strada di tutti eccetera eccetera ma per chi vuole capire e sapere tutto 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 quello che può sapere una piccola formichina come l'uomo ovviamente la strada è questa per chi la vuole fare la strada è questa e lui l'ha fatta però anzitutto si è lasciato beccare e mettere in croce per un padre che doveva amarlo e che l'ha fatto mettere in croce per non arrabbiarsi contro gli uomini perché lui salva gli uomini cioè qualcuno doveva morire in croce atrocemente se no questo Dio non era soddisfatto è terribile no? allora il Cristo pensa che lui che il padre vuole che lui muoia in croce ma è una cosa assurda ma quale padre vorrebbe che il figlio muoia in croce? ma il peggiore degli uomini non un Dio no? e poverino lui si è sacrificato perché al Dio ci si sacrifica i romani sacrificavano gli animali nel cristianesimo si sacrifica se stessi ma non è bello sacrificarsi perché il sacrificio è il nutrimento dell'astrale negativo ora questo solleverà un mare di rifiuti di scontento di anatema 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 sit ma è così è così perché anch'io in parte lo feci e mi accorsi di come alimentavo l'astrale negativo in fondo sacrificarsi è dire al Dio padre nutriti di me ti do una parte di me te la dedico mangia e noi nutriamo l'astrale negativo ci sono sacrifici benedetti per carità quello che si sacrifica per aiutare il figlio che va a salvare uno che annega per cui rischia pure lui per carità ci sono delle cose che sono molto belle insomma ma il sacrificio per un'idea o per un Dio anche il sacrificio per un'idea è abbastanza dubbia perché quello che si dà fuoco nella piazza per protestare lì è un sacrificio che si offre all'astrale non c'è bisogno di quello i martiri cristiani sono stati una pappata dell'astrale nero fantastica ma infatti una persona sana non si sarebbe mai lasciata morire per un Dio crudele che voleva che loro morissero con dolore dovevano essere persone piuttosto squinternate come ce ne sono di persone squinternate scusate odio i termini tecnici li conosco ma non mi piaccio no io sono sono una persona nonostante la cultura terra a terra abbiate pazienza quindi quando capisco squinternato è come il quaderno che si rompe lo capiscono tutti voglio dire ce ne sono state un po' in tante religioni ma soprattutto in quella cristiana ci si doveva ci si doveva immolare ecco immolarsi quovatis domine vado a Roma a farmi crocifiggere tu non ti sei voluto crocifiggere ci vado io voglio vedere come ti metti fai crocifiggere me o ti fai crocifiggere tu perché qualcuno si doveva far crocifiggere non si capisce perché quindi la figura del Cristo mi piace moltissimo ma è uno che comunque si è fatto infinocchiare da una fede la fede nel Dio Padre non ho fede né nel Dio Padre né della Dea Madre a meno che e all'inizio lo era poi è diventata una fede per Dea Madre non si intende la natura la natura estesa a tutto il cosmo perché il cosmo ha tutta una natura magari molto diversa dalla nostra ma c'è una natura c'è una materia quasi tutta sconosciuta per noi ma c'è e questa natura manifestata la natura naturata come la chiamavano gli antichi che so di averlo già detto però mi ripeto perché queste cose si dimenticano distinguevano una natura naturans e una natura naturata cioè un'intelligenza e una una materia un po' come se di una persona uno dovesse dire sì quella persona voi la vedete però c'è una parte che non vedete ed è la sua intelligenza non diremo mai questo di una persona perché lo diciamo della natura perché la natura non la capiamo se la natura è capace come è di creare no? di manifestarsi in miliardi di modi come può essere stupida? deve essere intelligentissima è quella che ha creato anche noi noi siamo figli della natura lei si manifesta lei cambia perché in realtà la natura non crea perché nulla al mondo si crea ma tutto si trasforma e nulla si distrugge no? è la più grande teoria scientifica di tutti i tempi teoria che nessun fisico ha mai smentito l'unica teoria in cui tutti hanno creduto non ho mai sentito dire a un fisico no io non ci credo a questo e il e il tornando a noi il Cristo è una figura bellissima che è stata completamente distorta dalla Chiesa perché? perché i primi vescovi voi dovete capire che il primo cristianesimo è stato bellissimo e cioè c'erano le donne vescovi c'erano le donne che parlavano in pubblico ed avevano più pubblico degli uomini perché le donne parlano più con l'anima quindi venivano facilmente ascoltate loro prevedevano un mondo di amore un mondo di fratellanza un mondo di uguaglianza le donne si volevano riscattare attraverso il cristianesimo della sudditanza in cui erano tenute dai romani ed è vero che erano tenute in sudditanza dai romani anche se erano tenute molto meno in sudditanza che dai greci per esempio che le donne proprio se le mettevano sotto i piedi le rinchiudevano dentro un gineceo non potevano neanche uscire neanche andare a fare spese al mercato insomma era una cosa bellissima però gli uomini impedivano le donne di fare certi lavori le tenevano a casa non le istruivano come i maschi perché la donna istruita poi cominciava ad alzare la testa e dava fastidio quindi le donne avevano avuto una grande speranza di riabilitazione col cristianesimo poi naturalmente le hanno annientate perché è arrivato San Paolo che diceva che le donne tacciano nelle assemblee che non parlino non ci potevano essere donne vescovi non dovevano parlare eccetera dovevano tacere nelle assemblee mentre prima facevano i discorsi e illustravano il cristianesimo addirittura non potevano intervenire dovevano domandare a casa ai loro mariti se volevano sapere le cose perché non potevano dimostrare la loro intelligenza perché altrimenti ci si accorgeva che le donne non erano stupide come gli uomini dicevano il cristianesimo è stato la speranza dei derelitti dei poveri dei dei minus abens insomma quelli che avevano di meno in qualche modo che speravano un riscatto in questa religione riscatto che non c'è stato le donne la chiesa se le messe sotto i piedi la chiesa ha dominato attraverso l'ignoranza perché come è arrivata ha chiuso le scuole a Roma c'era un'alfabetizzazione che era simile a quella di oggi cioè tutti sapevano leggere e scrivere perfino gli schiavi so di ripetermi ma lo ridico hanno trovato nel palazzo di Caligola i resti del palazzo di Caligola una scritta dove c'era appunto scritto che riportava che quella era la scuola dei figli degli schiavi perché gli schiavi già sapevano leggere e scrivere ma ci voleva una scuola per i figli degli schiavi perché se arrivavano nella reggia gli schiavi voleva dire che già sapevano leggere e scrivere però i loro figli dove andavano dovevano uscire dalla reggia no gli facevano una scuola lì quindi tutti sapevano leggere e scrivere il latino poi la chiesa come è arrivata ha chiuso le scuole perché con l'ignoranza si governa meglio e si fa credere quello che si vuole le scuole sono state chiuse e da lì è nata la caduta del latino lingua bellissima stupenda e oggi l'Europa parlerebbe latino perché all'epoca quasi tutta l'Europa parlava latino anche la costa dell'Africa anche l'Oriente parlavano latino se volevano fare una qualsiasi carriera dovevano parlare latino quindi avrebbe unito i popoli e invece poi è caduto poi si è passato al greco ma è sparito pure quello e con tutte le lingue neolatine noi abbiamo eletto in Europa l'inglese perché c'era l'America eccetera eccetera che per carità è una lingua del tutto rispettabile però la civiltà l'hanno portata i romani non gli inglesi la chiesa ha fondato sulla religione cristiana un potere temporale e ha cominciato Costantino che non si è mai convertito al contrario di quello che dicono al cristianesimo perché fino al suo ultimo anno di vita ha festeggiato il Sol Invictus che si festeggiava al sostizio d'inverno infatti poi ci hanno appiccicato la nascita di Gesù Cristo perché quella festa la folla la voleva era abituata a quella festa era una festa enorme il Dio Natale Solis Invictus cioè il Dio Solus Invicti Solis Invicti il Dio Natale cioè il giorno Natale il Dio Natale il giorno Natale del Sole Invicto cioè il suo compleanno insomma il giorno della nascita quello che festeggiamo oggi il compleanno noi col Natale festeggiamo il compleanno il Gesù Cristo che però non era nato a Natale ma questo lo sanno tutti e quindi non non si era convertito ma l'aveva scelto per interesse aveva scelto la religione una delle più delle più inoltrate perché voleva fare una religione di Stato cosa terribile la religione di Stato gli Stati devono essere laici altrimenti c'è una corruzione terribile il potere temporale fuso col potere religioso è terribile ci è bastato come Eninzo che ha distrutto la Persia tutto quello che aveva conquistato e tanto è vero che poi Dante Alighieri che scrisse la Divina Commedia per essere per sperando che il Papa gli togliesse l'esilio Divina Commedia in cui parlava di tutte le pene dell'inferno del purgatorio e le fortune del paradiso così la gente era ancora più terrorizzata perché la religione cattolica cristiana si reggeva sul terrore mentre le religioni dei Romani non si reggevano sul terrore assolutamente si trattava di ingraziarsi gli dèi con delle regole ben precise ben codificate non bisognava andare lì a pregare a inginocchiarsi a fare eccetera eccetera era una cosa molto soft quello che ha prevalso sul cattolicesimo è stato l'ebraismo cioè la religione orientale che ha portato questo questo l'inchino e il prostrarsi i Romani non si inchinavano a nessuno io ho visto un pessimo film sulla storia di Giulio Cesare che scendeva da cavallo poggiando il piede sulla schiena dei soldati non è vero questo lo facevano gli orientali questo lo facevano i persiani questo lo facevano i parti questo lo facevano i popoli d'Oriente i popoli d'Armenia eccetera eccetera i Romani non facevano questo i soldati sarebbero ribellati a una cosa del genere il generale doveva rispettare li poteva punire se non combattevano ma mai poteva togliere la loro dignità si sarebbero ribellati i Romani non si inchinavano nemmeno all'imperatore era un popolo molto orgoglioso la religione l'ha distrutto la religione ci ha distrutto ha distrutto la nostra dignità noi dobbiamo essere servi di Dio i Romani non erano servi degli dei cercavano di tenersi buoni gli dei ma non da servi ok alla prossima grazie a tutti